Questa mattina qua nella sede regionale della CGL abbiamo avuto un'iniziativa molto importante che apparentemente su temi che hanno poca attinenza, che però invece li dobbiamo vedere insieme. Abbiamo cominciato con un incontro con il professor Michele Cortellazzo dell'Università di Padova che ci ha parlato del maschile e femminile nel discorso pubblico. A lui avevamo chiesto per invitarlo appunto a questa iniziativa di parlarci del linguaggio di genere perché è un tema che vogliamo approfondire perché comunque anche il linguaggio che non è usato correttamente nel disegnare il maschile e il femminile è una sottile violenza o comunque da un punto di vista simbolico ha un significato di discriminazione in qualche modo perché i ruoli sociali, i ruoli professionali, i ruoli amministrativi per lo più sono sempre stati declinati al maschile e si fa molta fatica invece nel momento in cui le donne stanno rompendo quel tetto di cristallo che le tiene giù nonostante siano l'altra metà del cielo e le donne appunto rivestono sempre più posti invece che finora erano appannaggio degli uomini e si fa fatica a chiamarle con il nome femminile. Quindi molta difficoltà a dire sindaca invece che sindaco, dire assessora ma anche nelle professioni a dire architetta, a dire ingegnera, a dire avvocata e davvero il professore questa mattina ci ha fatto un'illustrazione addirittura con foto prese da targhe di professioniste donne che si declinano al maschile perché anche fra le donne purtroppo c'è una difficoltà ad accettare è quello che comunemente si dice ma non suona bene ma come diceva appunto il professor Cortellazzo è una questione di abitudine c'è sempre stato una prima volta per tutto anche per il maschile perché qua faceva per esempio interessante il confronto con la levatrice una figura tipicamente femminile. Come chiamiamo il corrispettivo maschile visto che da qualche anno e qua purtroppo solo da qualche anno stanno diventando ostetrici, diciamo così, anche maschi l'illevatore bisognerebbe dire, a parte che non si usa dire levatrice o levatore ma mai la figura è l'ostetrica, è l'ostetrico, non c'è niente da fare e la grammatica è semplice, basta applicarla quindi anche tutte le difficoltà che abbiamo a chiamare le persone con il loro nome con la loro qualifica, insomma è una questione di abitudine e quindi il fatto che una donna per esempio non accetti o faccia fatica a chiamare se stessa avvocata denota quanta fatica ha fatto per arrivare in quel ruolo probabilmente quindi una sottile violenza, una sottile discriminazione nel sociale che diversifica donne e uomini e poi accanto dopo questa appunto molto interessante lezione vedere questa mostra, vedere il video che illustra questa mostra ci ha preso davvero allo stomaco, queste donne, questi volti, questi ritratti di donna fatti proprio da Paola Volpato che è una fotografa, ma anche vediamo una disegnatrice veramente molto attenta e molto a cogliere proprio le espressioni perché questi sono ritratti dipinti dalle foto apparse sui giornali delle donne ammazzate per mano quasi sempre dei loro congiunti o ex partner o mariti o fidanzati e quindi i ritratti copiati dalle foto dei giornali e laddove vedete dei vuoti, si vedono dei vuoti in questa mostra è perché nei giornali non avevano neanche una foto da mettere quindi anche donne poco considerate e poco conosciute e quindi si è passati da un linguaggio apparentemente come dicevo semplice frivolo quasi, non lo so a questa cosa invece da una portata emozionale molto molto forte però è importante sono gli estremi di uno stesso discorso di una violenza che dobbiamo combattere tutti quanti assieme donne e uomini perché davvero in questo mondo si viva felici tutti insieme non c'è nulla di più generale naturale che declinare al femminile i nomi di mestieri, professioni cariche quando a occuparli, a svolgerli sono delle donne come diciamo cuoca, fornaia, maestra, infermiera così dovremmo dire senza alcun dubbio avvocata, ingegnera, architetta e via dicendo Qual è l'evoluzione quindi dell'ultimo periodo? Allora, quello che è da notare soprattutto negli ultimi anni è un'evoluzione certamente in direzione dell'approfondimento dell'allargamento dell'uso del femminile che mostra movimenti diversi a seconda delle singole parole per esempio per sindaca negli ultimi tre anni c'è stato un forte diciamo consolidamento dell'uso della forma femminile se svolgere la funzione di sindaco in un comune è una donna Allora, diciamo che nella politica ci sono casi diversi quello che per me dovrebbe essere ancora più semplice che è quello per esempio dei presidenti dei consessi l'onorevole Boldrini ha fatto in maniera di essere chiamata la presidente e già su questo ci sono state fortissime polemiche compreso quelle dei costi ritenuti esorbitanti perché ha fatto ristampare la carta intestata che non credo che siano queste le spese che possono mettere in crisi un'istituzione da un bilancio piuttosto corposo come quello della Camera nel momento in cui il numero delle donne che sono entrate al governo è alto si è diffuso abbastanza la dicitura ministra anche se non tutti i governi hanno avuto la stessa attenzione per esempio almeno all'inizio il governo Renzi era contrario alla femminilizzazione e questo aveva anche un po' ingabbiato gli uffici stampa il portavoce eccetera ministra ha una diffusione meno netta e meno univoca rispetto a sindaca quindi l'Italia rispetto ad altri paesi? è messa malissimo dopo la conferenza ho appena visto un messaggio generale su facebook di un insegnante in una classe con molti studenti stranieri che sono rimasti allibiti anche studenti che provengono da paesi in cui si parla l'arabo che in Italia abbiamo questo problema considerando naturale la declinazione per genere di qualsiasi nome che si riferisce a una persona specifica io credo che l'unica maniera sia usare le forme femminili in più persone soprattutto chi ha responsabilità pubbliche e in primis i giornali e i giornali devo dire che stanno evolvendo molto rapidamente da questo punto di vista naturalmente ci sono delle forti resistenze anche da parte di donne e l'esito finale dipende dall'equilibrio che si viene a instaurare tra chi attraverso corsi, conferenze eccetera quantomeno fa nascere, fa crescere la consapevolezza della correttezza della femminilizzazione e chi per ragioni le più varie a volte molto spesso diciamo senza malizia resiste rispetto a quello che dovrebbe essere un movimento naturale della lingua questo lavoro dal punto di vista del mio lavoro mi ha dato molto perché ho capito che il canone estetico che è usato sulle donne è molto diverso da quello che è il canone reale cioè da quello che è la realtà partire da queste donne che sono praticamente quelle più diciamo maltrattate quelle che sono state uccise è stato per me come un rendermi conto che la bellezza invece è in ogni persona e in queste persone io ho visto molta bellezza come CGL del Veneto abbiamo deciso che in occasione del 25 novembre giornata mondiale contro la violenza sulle donne di organizzare questa mostra abbiamo scelto questa mostra perché mostra i volti delle donne che sono state uccise è una mostra molto forte perché guardi negli occhi queste donne che hanno perso la vita per mano molto spesso dei loro compagni di familiari e quindi si esprime in maniera proprio palese visibile come la violenza venga spesso esercitata all'interno della famiglia per noi era necessario trovare un momento di riflessione come facciamo ogni anno e non è l'unica iniziativa nei territori ce ne saranno tantissime altre però appunto è stata un'occasione un po' diversa per mettere insieme il linguaggio e le immagini sul tema della violenza sulle donne abbiamo la possibilità che questa mostra giri anche per le nostre sedi e che quindi venga anche diffusa questa idea che noi abbiamo avuto appunto di mettere proprio le persone davanti ai volti delle donne che hanno perso la vita per mano di una persona che in teoria avrebbe dovuto essere al loro fianco nelle difficoltà e invece per mano loro hanno perso la vita la CGL c'è sul tema della violenza c'è sempre c'è sempre stata continuerà ad esserci c'è per le donne per fare rete c'è con le istituzioni per chiedere fondi rispetto ai servizi che tutelano questo tipo di temi c'è nei posti di lavoro per diffondere la cultura del rispetto delle donne e del contrasto forte alla violenza in tutti i luoghi a partire dai luoghi di lavoro grazie a tutti 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 grazie a tutti